Un attimo, fermi, fermi, ho visto una cosa che... Posso? Posso fare una cosa? Possiamo spostarla questa? Guardate dove sono ridotte, come sono ridotte i giardini di Margherita di Bologna a nuotare i germani nel canaletto, tutti sporchi di fango è una cosa scandalosa sono ridotti in questo canale a nuotare come vedete sono grigi perché sono sporchi di fango e perché sono ridotti qua? perché sono stati legalmente introdotti nel laghetto delle tartarughe come vedete il lago è completamente deserto e non è un mistero ma perché il lago è pieno di tartarughe come si può vedere le tartarughe sono carnivore mangiano i piccoli delle anatre, delle papere e mangiano anche le anatre adulte più che carnivore sono onnivore ma comunque questo è il risultato che non ci sono più papere come da sempre storicamente ai giardini di Margherita è ormai già da anni questa cosa incresciosa vedete il lago è completamente deserto i bambini sono ridotti guardate anche qui, deserto i bambini sono ridotti a dare da mangiare ai piccioni mentre una volta devono mangiare alle papere bisogna fare qualcosa per ristabilire l'ecosistema di questo parco perché così non è possibile sono solo tartarughe e di fatto le anatre, le papere, i germani sono morti tutti grazie grazie grazie